dai, alzatevi da ridere aspetta, non mi senti il mando brutto a me no, anche io per piacere ma lo metti come soglia lo voglio vedere che lo soglia è brutto male è anche Torachiki ma rabbio un'altra cosa che mi diceva tantissimo ma rabbio di eh, non lo so, però Giuliano forfette forfette dai, io, io ma che vero io non sono un ero 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 no 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 è così ahahah 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 cioè video è un ero che si sa poi quando chiamai aia ahahah 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 no, non faccio così ahahah ahahah e poi le scendeva voglio prendeva le lacrosse faccio a dieta a dieta aaa allora voglio fare fare una cosa cra